Nuovamente Danilo che attacca a palla al piede e poi riesce a servire Di Bale, il movimento da Gira in ottica, a servire al limite Ronaldo con il quale scambia il pallone sulla sinistra, Rabiot si muove Di Bala, cerca palla, non la trova, il cross di Rabiot in mezzo, salta e conga, rilancia lungo, De Ligt, Rete, ha segnato la Juventus, esattamente al minuto 42, nel corso del primo tempo cambia il parziale alla Dacia Arena, De Ligt con un raso terra, lateralmente chirurgico che non ha lasciato scampo, alla portiera dell'Udinese Musso ha controllato dall'altezza dei 20 metri, ha lasciato partire il suo destro, la corsia di sinistra, il cross disse ma arriva da solo Nestorowski, il pareggio dell'Udinese, esattamente al minuto 7, nel corso della ripresa, gran palla verso il secondo palo e crediamo sia stato proprio Nestorowski a sfruttare il cross che arrivava da sinistra, non c'era il campo della Juve, prova a saltare anche De Ligt, Fofana, Fofana è solo, Fofana ha raddoppiato l'Udinese, esattamente al 47esimo minuto, nel corso della ripresa, il raddoppio dell'Udinese con Fofana, un gol pazzesco, del numero 6 della formazione friulana, che ha puntato la difesa avversaria, è riuscito a chiudere il...